Ben ritrovati, avevamo già parlato dell'incoronazione prossima del re d'Inghilterra Carlo che non è il solo evento che riguarda insomma il Regno Unito né soltanto riguarda solo la mondanità o le cronache delle teste coronate, in realtà c'è una bella componente musicale e se abbiamo detto chi avrebbe cantato, almeno secondo le indiscrezioni, ora possiamo anche dire chi non lo farà, insomma chi ha rifiutato l'invito di Buckingham Palace al concerto che si terrà 7 maggio del 2023 e che prevede 10.000 biglietti gratuiti per altrettante persone estratte a sorte ma anche uno show al castello di Windsor che si annuncia come multisensoriale pieno di effetti speciali e nomi celebri a livello mondiale al quale però qualcuno ha detto no, insomma vedremo la reunion dei Tech Death, qualcosa che probabilmente avrà il sapore di un'operazione nostalgia anche se comunque molto attesa, non è chiaro però se il gruppo parteciperà al gran completo, cioè con o senza Robbie Williams secondo i rumors infatti il cantante avrebbe rifiutato la proposta di esibirsi con i colleghi ancora incerta anche l'esibizione dei Coldplay, così come di Paul McCartney e dei Rolling Stones nomi che farebbero tremare insomma al palco invece avrebbero risposto di no all'invito di sua maestà Adele che non avrebbe neanche motivato la sua assenza Ed Sheeran che invece quel giorno si esibirà in Texas dunque non può per altri impegni Harry Styles anche lui a causa di precedenti impegni e altri personaggi da cui tutti si sarebbero aspettati invece un sì immediato come per esempio Elton John e le Spice Girls in questo caso grande delusione per chi sperava di rivederle insieme anche Re Carlo III avrebbe accolto la notizia del forfè con una certa amarezza come infatti ha rivelato una fonte al Daily Mail che ha pubblicato scrivendo Re ha suggerito un certo numero di artisti che vorrebbe vedere sul palco e Adele e Ed Sheeran erano in quella lista voleva davvero che facessero parte dello spettacolo è una grande delusione sono giganti dell'industria dello spettacolo sono britannici e famosi in tutto il mondo è un peccato appunto E poi Elton John nota dolente c'è chi ritiene che il suo rifiuto fosse scontato vista la grande amicizia che lo legava Lady Diana quasi il cantante considerasse insomma fuori luogo uno sgarbo alla memoria della principessa a partecipare al concerto che celebra l'incoronazione di Carlo e della regina consorte Camilla forse non sapremo se il pensiero è proprio questo se questo lo ha spinto insomma a dire di no tuttavia sembra che anche lui abbia in agenda degli appuntamenti che non può assolutamente posticipare o comunque annullare quindi sarebbe un assente giustificato diciamo così nonostante questo le polemiche non si placano e come spesso accade è il mondo dei social a registrarle e riportarle puntualmente per esempio un utente di twitter ha scritto immaginate se Sir Elton John avesse accettato decidendo di cantare Candle in the Wind riferendosi ovviamente a quella canzone che l'artista dedicò a Lady Di durante il suo funerale per ora sarebbe invece più certa la presenza di Kylie Minogue e di Lionel Richie la lista completa delle star che comunque legheranno il loro nome al grande concerto verrà resa nota nelle prossime settimane e non è detto che non arrivi qualche altra sorpresa e allora ecco un brano tra gli artisti che abbiamo citato ora in chiusura di puntata cioè Lionel Richie con The Only One del 1983 cioè 40 anni fa esatti